Tutte le guerre si basano sull'inganno. Per anni l'ipocrisia dell'Occidente ha trasformato il mondo in un teatro di guerra. I corrotti parlano, mentre i nostri figli e fratelli versano il loro sangue. Ricordatevi, niente rosso. Malinga è un'arma a doppio taglio. Gli autori da Rosse affermano che l'attacco è stato orchestrato da un agente della CIA di nome Joseph Allen. Più grosse la bugia, più la gente ci crederà. E quando un'intera nazione chiede vendetta, la bugia si estende come un incendio. Vedo il cazzo sopra la rilla Marta Cinque! Le fiamme aumentano, divorando qualsiasi cosa. Questo è un atto di guerra contro gli Stati Uniti. I nostri nemici credono di essere gli unici a dentare il corso della storia. Invece basta la volontà di un solo uomo. La fine del mondo mi è arrivata. Cosa faresti per riportarlo indietro? Shepard ha creato la guerra, ma solo noi sapevamo la verità. Nicolai, dobbiamo tirare sopra fuori da qui. Da, conosco un posto. Portatelo dentro! Il rifugio è piovanti! Muoviti! Fuori dai piedi, cazzo! Un dottore! Ritirata! Ritirata! Continua a premere sulla ferita! Ci provo! Vieni duro, amico! Mi serve aiuto, ora! Stiamo perdendo! Carica! Tre, due, uno, libera! Sì! 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 Sì!